L'attore della Juventus del 1974 era Cestmir Vikbalek. Io figuriamoci ero un ragazzino a 17 anni e avevo intorno a me giocatori del calvelo di Salvatore, Capello, Anastasi, Furino. Insomma, l'emozione era forte. Ricordo i consigli di tutti che mi hanno messo a mio agio in campo e mi spronavano sempre a dare il meglio. È stato un esordio veramente bello, importante, vestire per la prima volta la maglia della Juventus, la maglia più importante perché era quella della prima squadra. Abbiamo vinto 1-0 quel giorno con un gol di Musiello.